Le realtà sociali operanti nella provincia di Barletta andiatrani ed attive nella promozione della strategia rifiuti zero hanno organizzato l'ultimo firma day della campagna nazionale di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare di rifiuti zero. Partita il 14 aprile scorso la suddetta campagna ha visto la mobilitazione di circa 300 soggetti sociali organizzati come comitati, associazioni, movimenti, reti, centri, di privati come aziende agricole, liberie e di istituzioni come costituti e comuni, nonché di numerosissimi singoli cittadini. Quindi poco più di 4 mesi in occasione di banchetti, feste, incontri formativi e formativi sono state raccorte circa 80.000 firme superando di gran lunga la storia di 50.000 utili a presentare una legge di iniziativa popolare in Parlamento. Il ciclo dei rifiuti come è stato concepito fino ad oggi ha fallito attraverso una chiusura di questo ciclo con incineriture e discariche, lo vediamo anche nel nostro territorio nella Bat che è diventato un luogo di trattamento dei rifiuti con un cementificio a Barletta che brucia rifiuti con discariche. Noi parliamo di qualcosa di nuovo, cioè ridurre rifiuti, riciclare, riutilizzare i beni che molto spesso arrivano a fine vita ma possono essere rimessi nel ciclo produttivo. Questo è importante soprattutto oggi perché noi oggi a livello regionale e a livello anche provinciale c'è il discorso degli aro, gli ambiti di raccolto ottimale, dove città si consorziano per quanto riguarda la raccolta, lo spazzamento e il conferimento dei rifiuti e quindi noi vogliamo che questa strategia rifiuti zero entri all'interno degli aro e all'interno degli aro anche che sono su base provinciale e che si occupano dell'impiantistica. Il coordinamento legge di iniziativa popolare rifiuti zero della provincia di Barletta Andrea Trani ha rivendicato il proprio diritto a partecipare alla redazione degli aro così come previsto la convenzione internazionale e norme europee cogenti nello Stato italiano. La raccolta firme ha visto anche la collaborazione di alcune associazioni con le amministrazioni comunali, così come spiega Maurizio Giacomo Antonio dell'associazione Margheritana Artemia Salina. Come associazione Artemia Salina rappresentiamo una piccola realtà tra quelle molteplici che si sono occupate della raccolta firme e perciò abbiamo il focus centralizzato sul nostro comune. Da lì sono venute circa 200 firme, abbiamo raccolto circa 200 firme e il discorso su rifiuti zero va ancora avanti perché abbiamo avuto modo di parlare con la nuova amministrazione che si è recentemente insediata e sono sicuramente favorevoli alla possibilità di poter abbracciare anche il discorso di rifiuti zero a livello amministrativo. Sono previsti ulteriori progetti, quindi la raccolta firme termina oggi ma il progetto su rifiuti zero va avanti. Tra questi progetti per esempio la possibilità di collaborare con una scuola elementare per coinvolgere la fondazione per l'ambiente. Quindi un progetto che ancora va avanti, un'attività di sensibilizzazione concreta a cui chiaramente non rinunciamo fino a che l'obiettivo non sarà totalmente raggiunto.